Buongiorno a tutti, in questo filmato vedremo come utilizzare Python, il linguaggio che è usato a partire da quest'anno al Politecnico di Torino al primo anno, per trarre vantaggio anche delle sue caratteristiche applicative e in particolar modo per quanto riguarda gli utilizzi di matematica, per esempio per il corso di analisi 1, quindi limiti, derivate e integrali. Allora, per fare tutto ciò bisogna ovviamente utilizzare Python, in particolar modo ci serve la libreria Simpy, tuttavia la libreria Simpy può essere ovviamente installata con qualsiasi distribuzione Python, ma io suggerisco di installarsi una distribuzione Python chiamata Anaconda. Vediamo brevemente come procedere. Ecco qua, Individual Edition, ci sono varie versioni, l'Individual Edition è open source, ok? Benissimo, facciamo download. Ecco allora, qui si tratta di scaricarsi il Graphical Installer da 466 MB. Adesso qua io l'ho già scaricato per maggiore velocità, eccolo qua. Procediamo quindi con l'installazione. Ecco, va bene questa opzione standard. Ora ci impiega circa due minuti, se non ricordo male, per installare tutto. Nel frattempo vi mostro brevemente alcune caratteristiche Simpy. Simpy vedete che è una libreria. Ecco qua. Questa è la documentazione di Simpy. Ci sono vari modi per installarla, naturalmente. Ecco, e questo è tutto quello che è in grado di fare. Vedete una breve scorsa su quello che può fare. Noi vedremo soltanto, diciamo, quello che ci interessa di più per quanto riguarda gli utilizzi del primo anno, almeno nel mio parere naturalmente, perché io non sono un matematico. Comunque, come potete vedere, è in grado di fare moltissime cose. Per esempio, non lo so, prendiamo qualcosa che non c'entri niente con quello che interessa a noi oggi. Vedete che possiamo vedere tutta una serie di cose, non lo so, prendiamo qualcosa di questo. Meccanica classica, ecco. Meccanica classica, questo può servire poi per fisica 1. Ecco, vedete che è possibile, corpi rigidi, eccetera, eccetera. Ovviamente, rispetto a MATLAB, a fronte probabilmente di una minore, diciamo, potenza di calcolo, si ha l'enorme vantaggio di poter disporre di tutto il linguaggio Python, che è un vero e proprio linguaggio di programmazione, che come tale presenta enormi vantaggi. Infatti, oggi come oggi, Python è usatissimo in moltissimi ambiti. Ok. Bene, vediamo se nel frattempo ha terminato. No, non ha ancora terminato. Ora, cosa ce ne faremo in particolar modo? Quello che faremo sarà andare ad utilizzare un notebook Jupyter. Jupyter viene installato tramite Anaconda, quindi è disponibile. L'idea del notebook Jupyter è molto simile a MATLAB, in quanto questo tipo di applicazioni è stato, diciamo, ripreso abbastanza da MATLAB. Bene, allora, facciamo next. Ora io il tutorial lo togliamo per comodità. Terminato. Ok, perfetto. Adesso, qui è installato. Il file che ci serve è qua. Facciamolo partire. Anaconda. Jupyter notebook. Vedete, si legge come il pianeta, ma ha una Y in più. Adesso lui parte. Attiva un server. Aggancia il browser di riferimento, che consiglio peraltro Chrome, per questo tipo di applicazioni. Quindi, vedete, il file in questione è questo simbolico, questo file qua, simbolico, vedete, simbolico.ipynb, è sul desktop, quindi andiamo sul desktop, poi lo andiamo a cercare, eccolo qua. Lui se lo carica, eccolo qua. Questo è il notebook, è un quaderno a tutti gli effetti. Quindi, naturalmente, se voi ne volete creare uno nuovo, nessuno vi vieta di creare un nuovo notebook. Per esempio, new notebook. E vedete che lui ve ne crea uno nuovo. E, per esempio, io poi posso usarlo come calcolatrice. 3 più 4. Attenzione che, per far eseguire l'operazione, dovete premere shift ed enter assieme. Ok? Anziché invio. Se voi premete solo invio, lui va a capo. Ok? Però, se voi fate shift invio, vedete che lui fa il calcolo. Naturalmente, si può fare ben di più di fare 3 più 4. In questo modo, si possono fare un mucchio di operazioni. Per cui, vediamo che cosa si può fare. Allora, innanzitutto dovete importare le librerie necessarie. Quindi, vedete, questo è uno dei modi, voi sapete che in Python si possono importare le librerie in altri modi. Questa parte di libreria serve per importare le lettere latine e greche come simboli, in modo tale da non avere problemi. Perché, altrimenti, bisogna importare separatamente le varie lettere. E questo serve per migliorare la visualizzazione. Ora, andiamo pure sul primo. Facciamo shift enter. Notate che, se voi volete eseguire il notebook, potete per esempio andare qua. Vedete? Restart the kernel. Quindi, per esempio, lo possiamo lanciare. E lui, cosa fa? Riesegue il notebook. Ok? Quindi, rifa tutto. Ci impiega un attimo perché deve fare tutti i conti. Vedete? E vedete che infila i grafici all'interno del notebook, esattamente come fa Matlab. Volendo, l'idea ovviamente è molto simile, anche la nomenclatura. Sono librerie che sono state sviluppate, cercando di prendere il meglio di Matlab, ovviamente. Si possono anche far partire separatamente. Per esempio, se voi volete inserire una, diciamo, una cella qua in mezzo, beh, potete semplicemente inserirla. Vedete? In cell, cell, above. E qua ci scrivete. Se invece non vi piace più, la potete tagliare e cancellare. Bene? Se la volete modificare, potete modificare. E poi, per farla rieseguire, dovete premere Shift-Enter. Naturalmente, se fate una modifica in alto, e questa modifica impatta su quello che c'è dopo, dovete rieseguire tutto. Allora, cominciamo a vedere brevemente. Allora, come abbiamo detto, questo serve soltanto per importare il necessario. Prendiamo una funzione, sin x su x. È una funzione molto famosa. Io ho preso questa perché non è definita in 0. Ed è soprattutto una funzione che è sostanzialmente un apparente molto stretta della diffrazione della luce di una fessura. Siccome io mi occupo di image processing, queste cose mi interessano. La visualizziamo. Ecco, vedete. Vedete che la visualizzazione è abbastanza bella. Magari mandiamo tutto schermo per comodità. Poi la possiamo plottare. Vedete, plot F. È sufficiente fare Shift-Enter e lui rigenera il grafico. Vedete, questo è il pattern di diffrazione. Bene. Possiamo calcolare i limiti. Vedete? È sufficiente, per esempio, in questo caso, noi stiamo calcolando il limite della funzione per x che tende a 0 dal lato più. Ok? Questa è la sua visualizzazione. Vedete, è sufficiente che scriviate con la L maiuscolo. Lui non fa il calcolo e poi scrivete semplicemente l1 e lui ve lo scrive in modo, in bella calligrafia. Ok? Se volete calcolarlo, questo è un metodo dell'L1 e voi lo potete calcolare e vedete che vale 1. altrimenti, se non voglio passare attraverso la visualizzazione intermedia, metto la L minuscola e lui me lo calcola direttamente e fa 1. Se voglio, posso anche calcolare dei valori. Per esempio, proviamo a mettere il valore 0 all'interno della funzione. Vedete che inserisco 0 e lo valuto come floating point. Vedete che lui mi tira fuori note number perché viene 0 su 0 che è indeterminato. Bene, proviamo a calcolare una derivata. Vedete? Calcolo la derivata e poi la disegno. Questa è la derivata della nostra funzione. Questa è la formula corrispondente. Ok? Notate che se io, per esempio, vado qua e faccio, appunto, la rieseguo e lui ovviamente me la riesegui. Ok? Possiamo anche provare ad integrarla, plottare l'integrale. Vedete che l'integrale è una funzione speciale, ovviamente. Possiamo, per esempio, calcolare un integrale definito. Vedete, con la lettera maiuscola riusciamo ad avere un integrale definito senza risolverlo. E questo invece lo risolve e questo è il risultato. D'altro canto, vedete che se io plotto la funzione integrale tra meno 1 e 1, vedete che qui fa 1 e qui fa meno 1. E quindi 1 meno meno 1 ovviamente fa quello. Però, dopodiché, se voglio, appunto, con le funzioni con la maiuscola posso visualizzarlo meglio. Ho anche la stessa cosa per le derivate. Posso anche fare derivate parziali. Questa è solo la visualizzazione, questo è il calcolo. E poi, per finire, è una cosa che va al di là dell'analisi 1. Perché ho scelto questa funzione? Perché, come vi dicevo, questa è... Se voi prendete una parete e gli tagliate una fessura e poi illuminate questa fessura, dall'altro lato mettete uno schermo. Sullo schermo, anziché vedere un'ombra netta, cioè una luce netta, vedrete questo. Una cosa del genere, dovuto alla diffrazione della luce, perché la luce, a natura, sia ondulatorica che corpuscolare. Ebbene, la cosa interessante, è un po' complicato però, è interessante, è che se voi fate l'antitrasformata di Fourier di quella funzione, ottenete, vedete questa, che è una funzione, sostanzialmente una porta, e questa è in effetti la fessura. Ma questo l'ho messo soltanto così come sfizio, e per farvi vedere che è in grado, per esempio, di fare anche le trasformate di Fourier, che vanno ovviamente ben al di là di Analisi 1. Grazie.